Adesso ti dimostro in tre secondi come puoi ribaltare una chiamata dalla vendita tradizionale al closing sentendoti bene, in controllo e facendo in modo di prenotare una chiamata di qualifica, di conoscitiva, eccetera, senza abbassare il tuo status. Ti chiamo io. Dream Dream? E' pronto? Maria Teresa? Sì? Maria Teresa, sono Fabio Gallerani di Franchising Facile. È un brutto momento? No, assolutamente. Ti chiamo perché la mia assistente mi ha lasciato un post-it sulla scrivania qui in ufficio e mi ha indicato che avevi osservato alcuni nostri lavori riguardo all'apertura di un franchising e sono confuso. Mi hai capito a capire meglio? No, ma io non ho lasciato nulla. No, no, certo. Infatti anch'io mi ero sorpreso, ho chiesto all'assistente più volte, ma insomma siamo qui per chiarire. In realtà tra un minuto devo andare Maria Teresa, quindi un'ultima domanda. Normalmente chi connette con me, insomma con la nostra corporation, sono persone che hanno un'azienda interessante che possa appunto, sta in realtà cercando di potenziare il proprio business attraverso la creazione di un franchising e in questo momento sta considerando quella situazione. Ma immagino non sia qualcosa che avete considerato, insomma, a grandi linee, no? Cioè non vi è mai passato per la testa? No, assolutamente. Come no? Ci è passato per la testa? Sì, di sicuro. Oh, Maria Teresa, guarda, ti ringrazio della chiarificazione. Purtroppo adesso in agenda ho un'altra chiamata. Ha senso se ci sentiamo 15 minuti? Oggi non so se ho spazio in agenda nella giornata di domani per approfondire, perché mi pare che questa cosa potrebbe essere interessante. Wow. Dico solo wow. Davvero. Ok. Allora, stop un attimo roleplay. Senza parole. Allora, ci andiamo un'altra. Beh, ti ringrazio intanto Maria Teresa per questo feedback. In realtà, quello che ti volevo dimostrare, al di là che l'assistente abbia lasciato, eccetera, qual era lo status di Fabio nella chiamata? Maria Teresa che non sa chi sono. Fatemi sapere in chat, poi Maria Teresa mi dici tu la tua sensazione. Qual era il mio status secondo voi? Vediamo, prima che Maria Teresa lo spoileri, perché lei chiaramente c'ha il feeling e ci ha fatto l'esclamazione. Come, chi ero io? Come ero a livello di status? Superiore o inferiore a Maria Teresa? Ma, superiore, perché comunque eri, io ero a disagio, non sapevo chi fossi, e tu intanto, beh, apparentemente no, però insomma sapevi, e quindi, ma perché io non capivo il discorso del biglietto, cioè tu sapevi dove stavi andando a parare, ok? Io di qua, invece, ti ho ricevuto, ma non capivo, di conseguenza ero molto attenta nell'ascolto, e cercavo di capire chi tu fossi, cosa che magari invece se io mi presento così, mi do già per venditore e non ti voglio neanche sentire. Certo, certo, se tu mi parli di chi sei, di cosa stai parlando, subito. Eh sì, l'ho prodotto già. Quindi cosa succede? Che io creo obiezioni per proteggermi, perché siamo esseri umani, abbiamo paura di chi non conosciamo. Però c'è stata una cosa, Maria Teresa, che poteva andare bene o andare bene, perché in ogni caso, questa chiamata mi beneficia come persona, come professionista, perché se io ti dico, normalmente aiutiamo XYZ e tu dici, non ho mai avuto questo problema, allora, io dicendo quella frase, seguitemi bene, perché questa reazione di Maria Teresa ha una ragione ed è closing, quando dico, vi faccio vedere con il grafico, questo semplicissimo grafico di 3P, normalmente chi ci chiede informazioni, persona, ha pensato di risolvere questo problema, problema. E poi suppongo che tu non ce l'hai il problema, immagino che tu non abbia questo problema, vero? Chiaramente, in questo senso, io non ho parlato del prodotto, sbaglio. Mi hai sentito parlare del prodotto. No, in effetti, e ci stavo quasi restando male, dico, ok, adesso va via, non ho neanche capito cosa fa bene. Devo andarmene, devo andarmene, perché? E lì si è alzata la mia attenzione. Esatto, perché chi ha uno status alto non ha tempo. Quindi è una scelta. La buona notizia è che lo status può essere fabbricato e comunicato, però serve l'abilità giusta. La competizione è una scelta. Quando uno compete è perché non riesce a comunicare con uno status più alto, perché se lo status è più alto, non ci sono i competitor. Magicamente viviamo in un mondo a parte. Magicamente viviamo in un mondo a parte.